Ragazzi sono seriamente preoccupata perché mi accorgo che alcuni nostri ascoltatori hanno lo sdoppiamento della personalità arriva la nonna, poi arriva la zia, siamo un po' tutti presenti, c'era anche la cugina, c'era il marito, c'era Alfonsina io non so in quanti sono effettivamente, devono essere proprio in tanti in questa famiglia, devono essere tutti molto uniti e ci sono ancora saluti da fare, c'era Giuseppe che voleva sentire un brano di Max Pezzali però credo proprio che non facciamo in tempo a sentirlo, quindi mi dispiace Giuseppe la prossima volta se è possibile vedi di essere un po' più veloce perché abbiamo cominciato oggi alle 10 e mezza e quindi c'è stato anche tempo per richiedere i brani e c'è anche Giovanni che ha dovuto aspettare un po' perché effettivamente quando mandate così tanti messaggi non si riesce proprio a starvi dietro, il brano che richiedeva era quello da Alicia Kiss, No One e lo voleva dedicare, forse qualcuno no, non voleva dedicarlo proprio a nessuno gli andava di sentire questo brano e io te lo faccio sentire subito dopo andiamo in pubblicità e torniamo per i saluti finali perché anche per oggi siamo alla fine e quindi